La direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca di beni emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Angelo Emilio Frascati, 64enne regino, imprenditore noto nel settore della grande distribuzione alimentare e del commercio di autovetture. Nel provvedimento il Tribunale ha riconosciuto nei confronti di Frascati una pericolosità sociale fondata principalmente sulle risultate delle operazioni fata Morgana confluita poi nel processo Gotha nel cui ambito nel 2016 è stato tratto in arresto con l'accusa di aver fatto parte della Cosca Libri ponendosi all'esito della guerra di mafia come esponente dell'andrangheta nel settore della grande distribuzione alimentare e più in generale dell'imprenditoria di settore ed aver turbato il regolare svolgimento delle pubbliche gare dell'affare che consentiva ad un altro imprenditore di inserirsi nel consorzio dei commercianti del centro commerciale La Perla dello Stretto di Villa San Giovanni. Per tale vicenda Frascati era stato condannato con sentenza di primo grado nel 2018 dal gruppo di Reggio Calabria a 13 anni e 4 mesi di reclusione per associazioni di tipo mafioso e turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso. L'ingente patrimonio sottoposta a confisca il cui valore complessivo supera i 20 milioni di euro ha riguardato 8 aziende per 4 è stata disposta la confisca dell'intero capitale sociale e del patrimonio aziendale per le altre 4 la confisca delle quote riconducibili a Frascati. Tutte con sede al Reggio Calabria ed attivi nel settore della grande distribuzione alimentare, del commercio di otto mezzi, della costruzione ed immobiliare. 20 immobili per l'intera proprietà e infine vari rapporti finanziari. Con lo stesso provvedimento il Tribunale ha applicato poi nei confronti di Emilio Angelo Frascati la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni e 6 mesi.